Io cerco di essere vivace, è stato un bellissimo pomeriggio di lavoro, nel senso che mettere assieme le esperienze è la cosa più importante anche per imparare. Vado tutto a titoli, diciamo dei titoli e poi svolgo. Allora, il primo capitolo lo chiamo grandi strategie, cioè domandiamoci perché facciamo tutto questo, ce lo dobbiamo dire. Ovviamente la questione fondamentale sul riscaldamento globale è cambiare le fonti di energia, perché da lì deriva tutto il resto, con che viene alimentata una macchina elettrica, eccetera. E noi ricordiamocelo sempre, in analisi comparata delle fonti di energia, su cinque criteri che possiamo utilizzare per la scelta, su tutti e cinque questi criteri vincono i rinnovabili. Se parliamo di salute, se parliamo di clima, quindi emissioni di CO2 per gigolattora di energia prodotta, se parliamo di prezzo, quindi costi ad oggi di produrre energia, sia considerando la costituzione di nuovi impianti che senza. Quarto, se parliamo di volatilità del prezzo. E qui c'è il problema della, noi diciamo sempre agli studenti che gli imprenditori sono forward looking, non sono forward looking, perché dovevano saperlo che il prezzo delle fonti fossili era molto più volatile, anche quando magari il petrolio aveva prezzi negativi, eccetera, eccetera. Quindi quarto criterio. Quinto criterio, l'indipendenza energetica, ce lo siamo già detti ovviamente, no? Criterio che abbiamo scoperto adesso quando si parla di nuova globalizzazione, è stato coniato questo neologismo, friend shoring, invece del, ok, cioè solo con gli amici, globalizzazione ma con gli amici, il collega Barbano Avaretti. Quindi oggi che dobbiamo fare? Ci sono tre, quattro pilastri per costruire, per andare più rapidamente in questa direzione. Uno per fortuna l'ha fatto l'Unione Europea, Carbon Border Adjustment, fondamentale perché il 95% delle persone non capisce che viviamo nel commercio internazionale. Quindi se noi siamo i primi della classe, ma ci facciamo fare dumping socioambientale da altri paesi, addirittura produciamo delocalizzazione, carbon leakage, eccetera, quindi fondamentale l'Europa ha messo un paletto che forse salverà il mondo. Cioè dire, quando tu arrivi alla frontiera e vuoi vendere sul mercato europeo, il più importante nel mondo, devi pagare tutti i costi, diciamo, dell'energia che non hai pagato, tutti i diritti di inquinamento. Questo è fondamentale. Sì, questo è fondamentale. Ma è difficilissimo spiegarlo a chiunque, perché non si capisce perché noi ragioniamo sempre senza il commercio internazionale, anche quando parliamo del salario minimo, anche quando parliamo del mercato del lavoro. Non si riesce a far capire questa cosa alla gente, che siamo nel commercio internazionale, che quindi dobbiamo creare quello che bordo da Jasmine per me anche sul lavoro. Assolutamente, assolutamente. Il problema è che c'è un cetticismo di base nei confronti dell'Unione Europea, che sembra che qualsiasi cosa che propone la Commissione... Pensa che due economisti hanno tre idee, di solito, e l'unico caso in cui, anche a me a sorpreso, questo documento su Carbon Border è stato firmato da 1.200 economisti negli Stati Uniti, 24 premi Nobel. Tutti quanti l'hanno firmato. Quindi dicevo questo. L'altra cosa, l'agrivoltaico per fortuna si è sbloccato, le comunità energetiche, e aiutare gli imprenditori, credito d'imposta, per diventare autoproduttori. Il governo ha fatto una cosa piccolissima, 180 milioni solo per le sei regioni del sud. Non ce ne sarebbe bisogno se gli imprenditori fossero forward looking, ma come ci è stato detto, adesso si sono accorti e quindi stanno aumentando. Prima non... Sembra che non se ne accorgevano. Secondo punto, la cultura. Quindi abbiamo detto tante cose su questo. Prosumerismo, io insisto su questo. Questa è la cultura del prosumerismo. Cioè, i cittadini non è solo popolo bue che subisce come consumatore tutto quello che accade, ma può diventare prosumer. Questo vale nel campo dell'energia, vale in un'altra cosa, a cui io sono molto affezionato, ma non è il momento di parlarne oggi, che è la marca del consumatore, se chiede patron, cioè questa rivoluzione dei consumatori che costruiscono i loro prodotti, d'accordo con i produttori della grande distribuzione, a prezzi anche molto interessanti. Abbiamo parlato di learning, di gaming, no? È molto interessante questo fatto che si può... e diventa anche un modo di apprendere stili di vita sul consumo. Oggi sappiamo quanto sono importanti, ne parla persino il governo, no? I gradi del condizionatore. Io oggi sono arrivato, mi sono congelato, perché stavo su un regionale dove non funzionava l'era condizionata, ma ci siamo presi un colpo. Credo fossero 17 gradi, 16 gradi, siamo tutti uscire dal... Ora, noi non abbiamo... facciamo una legge e mettiamo che c'è una temperatura minima sotto cui non si deve scendere l'era condizionata nei luoghi pubblici. Non ci vuole tanto, no? Comunque, questo punto della cultura è importante. La cittadinanza attiva. Allora, io voglio ricordare una cosa, che nel dibattito, arriviamo proprio a livello alto politico, oggi la democrazia si salva se c'è cittadinanza attiva, altrimenti il cittadino diventa un rancoroso leone da tastiera. Quindi dobbiamo promuovere tutti quegli strumenti che ci fanno sentire comunità, che ci fanno sentire cittadini attivi. E le comunità energetiche sono uno di questi strumenti, assieme a tante altre cose, la coprogettazione, il consumo responsabile, eccetera, l'Apsus e tutto quanto. Ovviamente, diciamo, siamo pienamente nella cultura di simbola, ecco, diciamo, nella logica di simbola. Quindi c'è un valore culturale enorme, diciamo, che va oltre anche la cosa singola dell'iniziativa. Altro tema è stato detto, lo chiamo lockdown, il capitolo, l'efficienza della rete. Qualche giorno fa, quando c'è stato il lockdown a Milano e a Torino, è stato detto giustamente, nell'architettura della rete del futuro, le comunità energetiche saranno fondamentali, perché bisogna collegare geograficamente produzione e consumo. Altrimenti dobbiamo avere sempre più persone che producono e consumano, senza ingolfare, diciamo, la trasmissione dell'alta tensione, eccetera. Quindi avere più possibile, mentre ci sarà un aumento, ovviamente, delle macchine elettriche, eccetera, che anche loro potranno diventare accumulatori e tutto quanto, nell'architettura della rete, le comunità energetiche saranno molto importanti. Un altro capitolo, secondo me, è quello della storia. È interessante, no? Noi sappiamo che le comunità energetiche in Italia esistevano da inizi del Novecento, nelle valli alpine, e questo ci fa riflettere anche sul mercato. Il mercato elettrico non è un mercato libero, è un mercato iperregolamentato dalle esigenze della produzione nazionale, della distribuzione. Allora non era così. Nel convegno di Conf Cooperative, dove sono stato, c'è stato l'intervento di una delle prime comunità, inizio del Novecento, alpine, e lui orgogliosamente diceva che le aziende vengono tutte da noi, gli offriamo energie a costi molto bassi, e tutti gli altri operatori, per farci concorrenza, devono abbassare i costi. E questo però è una cosa che ovviamente oggi non è più, loro hanno anche i loro elettrodotti, per dirci, no? Quindi, sembra che allora era così. L'altro tema che è importante, secondo me, è quello del, io lo chiamerei come titolo, avanti comunque, no? Cioè, tutti noi, c'è questo convitato di pietra dei decreti attuativi, di cui abbiamo parlato tutti, però è la cosa bella, ecco, del genio italico, che ci va avanti comunque, no? Nonostante il convitato di pietra. E io, girando l'Italia, ne ho viste tante, è stato detto prima, guardate, diciamo, l'autoconsumo condominiale ha un modello di business che sta in piedi. C'è un pioniere in Italia che si chiama Acea Pinerolese, ne ha già fatti 20, ne ha progettati altri 100, ma ne può fare a manetta ovunque, in tutta Italia. Sì, ma se tu pensi che la prima palla di Ennostra, di Sara Capuzzi, sì. Quella di Gubbio, di Sara. Esatto, ci sono vari modelli, ma sul condominiale in particolare, poi c'è, diciamo, lì c'è anche una questione che è stata in parte accennata da qualcuno, che chiaramente tu puoi chiedere al consumatore di essere semplicemente un membro senza avere un elemento di rischio, e in quel caso i benefici sono minori, oppure partecipare al rischio, penso a Infinity Hub che crea delle NUCO e dove tu puoi essere azionista e socio e quindi hai anche quello. La stessa cosa fa We4Green, We4Green è una vecchia comunità energetica, ma lei ha girato il problema, ha i suoi impianti, chiede alla gente di partecipare per la costruzione degli impianti, gli vende l'energia, gli dà i dividendi. Quindi voglio dire, ci sono tanti modelli interessanti, ne abbiamo sentiti veramente interessantissimi quelli di questo panel, faccio sempre pensando a dove si può arrivare, in Belgio c'è EcoPower che ha credo 20.000 soci, fa 3% dell'energia del Belgio, insomma, quindi parliamo di cose molto molto importanti. Quindi direi, la vera questione che ci ponevamo, proprio prima con Francesco, mentre ascoltavamo, diventa una questione, io direi, di teoria dei giochi, no? Teoria dei giochi, cerca di capire quali sono le mosse migliori da fare con. E a questo punto, qual è la mossa migliore da fare? Far finta di niente, dirci queste cose nei convegni, o forse può essere arrivato il momento di, sempre da finti tonti, no? Dicendo, guardate, ma insomma, c'è la red, c'è questo problema, c'è stata la marmolata, noi siamo tutti pronti, quindi siamo pronti ad iniziare se c'è questo passo. Quindi io credo che forse, beh potrebbe essere, io la lancio lì così, no? Il popolo di simbola e non solo, pensate a tutto quello che è successo anche nella Chiesa Cattolica, Taranto, tutti i vescovi che vogliono fare comunità energetiche. Cioè, se una coalizione del Paese, veramente diciamo in maniera molto ingenua, fa un appello in questo momento sui giornali, ma forse, secondo me, potrebbe, io credo che potrebbe essere interessante anche per rendere pubblica questa questione, no? Renderla trasparente, metterla sul tavolo. Io non credo che ci convenga tenerla nel cassetto, conoscendo un po' le parti in causa, e le conosco. Sì, potrebbe essere un'idea. Devo dire che sono già stati fatti talmente tanti appelli su... Però su questo, cioè, l'appello è quanto ci vuole a far uscire i decreti attuativi? E mi raccomando, perché, insomma, poi almeno uno ha messo le mani avanti, quindi chi vuole fare una cosa diversa si prende le responsabilità, non è che si è distratto, diciamo. Perché adesso potrebbe dire, ma mi sono distratto, sai. Invece no, non c'è da distrarsi qui. C'è questo 110, diciamo, 110 euro per megawattora, è chiaro che quello è un parametro importante, perché si può costruire in tanti altri modi, però secondo me ha senso come è stato costruito, perché abbiamo detto che, in effetti, il valore per l'architettura del sistema sta nell'autoconsumo, quindi premiare l'autoconsumo ha un suo significato. Chiaro che in un libero mercato tutte produci l'energia, dalla vendita, dalla costa, quindi ci sono anche altri modelli, altre configurazioni, ma che sarebbero di libero mercato che non esiste. Però nel mondo regolamentato quel sistema lì è un sistema che secondo me fa l'interesse di chi fa la comunità energetica, di chi fa la distribuzione e anche di chi produce l'energia. Quindi è un equilibrio tra... Allora, manteniamolo questo equilibrio, però secondo me portare la cosa alla luce del sole in questo momento non sarebbe male. Il titolo dell'appello potrebbe essere ma ci sei o ci fai? E si ritorniamo. Quello lo dobbiamo... Quello deve essere nel sottofone. No, noi che facciamo l'appello ci facciamo. Perché ovviamente... Facciamo i falsi ingenui. Sì, non so se sarebbe efficace in effetti. No, ecco, esatto. Però ecco, ma in maniera molto candida. Però un po' di provocazione ogni tanto non fa male. Però ecco, secondo me, ecco, anche perché appunto c'è questo potenziale così forte e quello, ripeto, andando poi a concludere, la cosa che dispiace è che appunto non... Siamo veramente col freno a mano tirato, ma non solo su questo punto, anche su altri, ripeto. Quindi basterebbe un pochino per dare un po' di gas e questo aumento di quota di energia prodotta da rinnovabili, che è l'obiettivo di tutti, del 2030, del 2050, eccetera, si può raggiungere, secondo me, molto... dall'altra parte con Silvestrini si parlava del 70%, del 100%. Lui, molto ottimista, dice che... No, nella presentazione del libro dice che l'Agenzia Internazionale del Clima dice che il 95% dell'energia, nuova energia prodotta nei prossimi anni sarà da rinnovabili. Però, non so se ha messo tra parentesi, scusa l'Italia, quindi voglio dire, noi ci dobbiamo preoccupare del nostro paese, che il nostro paese sia in linea con tutto questo. Assolutamente, sì. Il problema è che... Grazie, Leonardo. Aiuto. Il problema è che, appunto, sì, qualche volta si ha l'impressione che gli obiettivi siano solo teorici, che però nella pratica non ci siano delle resistenze talmente forti. d'altra parte, come dicevo, ne parlavo l'altro giorno con un signore che fa modellistica climatica, uno scienziato che si chiama Tim Palmer, che insegna a Oxford, e giustamente lui diceva che l'energia fossile è stata per talmente tanto tempo all'interno della società da essere ubiqua nell'economia, ma anche nelle case delle persone, cioè ci sono moltissime persone che ci lavorano dentro, quindi prima che tutte queste persone si convincano che devono riconvertirsi riconvertirsi a un'economia diversa, a un'energia diversa. C'è un'inerzia pazzesca. Aggiungo un punto su questo. Detto ciò, è più difficile riconvertire il lavoro del capitale, sempre questo è il problema, perché il capitale, cioè la Nokia a un certo punto ha deciso di passare da Legnama ai telefonini, Erg ha deciso di diventare rinnovabile, chi ha il capitale non ci mette tanto, se vuole, a vendere qualcosa e a comprare altro. Il metalmeccanico di 57 anni o chi lavora nel settore dei motori a scoppio fa un po' più di fatica. Però oggi il grande problema sono i goal, sono le riconversioni del lavoro e partire anche dal basso, faccio un esempio, una pubblicità, una cosa che stiamo facendo con il Ministro della Pubblica Istruzione, il liceo TRED che inizia il prossimo anno, c'è un liceo sperimentale sulla transizione ecologica e digitale che 500 ragazzi in 40 scuole d'Italia faranno, qui sono iscritti dal prossimo anno, abbiamo lavorato con i professori proprio per vedere come in tutte le materie di un liceo scientifico entra la questione della transizione ecologica e digitale. Perché qui c'è anche un problema molto grosso, che noi siamo tutti specializzati in monomateria, cioè chi non è studiato economia, chi ha studiato scienze naturali, chi è ingegnere, invece qui siamo di fronte a questioni che richiedono una multidisciplinarietà che quasi nessuno ha aborigine. e quindi c'è bisogno di lavorare molto anche da questo punto di vista. E però bisogna farlo perché sennò finiamo tutti come i maniscalchi, capito, cioè, come si vede nel mondo dell'auto, per esempio, cioè, adesso questa alzata di scudi dell'Italia contro la fine dell'auto a combustione interna, cioè, è una cosa che non non si può vedere, cioè, fa male al cuore, perché è evidente che se noi non ci riconvertiamo, cioè, ci magnano, insomma. Anche lì un'ultimissima battuta, qualche volta secondo me tatticamente bisogna essere più fini, cioè, dire, non c'era bisogno di dire motore elettrico, bastava dire zero grammi oppure x grammi diciamo di CO2 per chilometro ed era evidente diciamo che la soluzione sarebbe stata quella imponendo la neutralità tecnologica poi lascia ognuno il campo di regata e la responsabilità di cosa fare e crea meno anticorpi secondo me quindi l'obiettivo della transizione ecologica è un obiettivo grammi di CO2 per... metti quello lo stesso quando è stato fatto il Cibam all'inizio hanno sbagliato l'hanno messo assieme ai diritti di inquinamento per i settori che erano ancora esenti infatti è stato bocciato poi l'hanno riproposto cioè, secondo me bisogna anche essere... in Europarlamento è passata questa cosa sì, dopo la seconda volta perché alla prima l'avevano associata all'inserimento in Italia nei settori ancora esenti di diritti di inquinamento cosa che ovviamente ha attirato l'ultima cosa che voglio dire perché l'hai accennata sui distretti ecco molto importante questa cosa perché quando io sono stato con il compasso manifatturiero distretto di Torino tutta manifattura molto motore e loro uno dei temi fondamentali per loro è proprio quello di creare lo spirito di squadra e la coesione tra tutte le aziende che lavorano le piccolissime le piccole e medie con i componentisti e quindi secondo me la comunità energetica lì ha un fattore interessante di capitale sociale cioè diventa un pilastro di quel patto di rete che le aziende di quel distretto fanno quindi diventa anche lì uno strumento formativo che crea capitale sociale certo assolutamente che c'è che c'è che c'è che c'è che c'è